Anche quest'anno prima di Natale l'amministrazione di Rovetta ha voluto dedicare un momento alle borse di studio e al volontario dell'anno. Sì, come tutti gli anni prima di Natale abbiniamo sia la premiazione dei ragazzi con i premi di studio, le borse di studio, al riconoscimento ai volontari dell'anno che siamo ormai arrivati al diciottesimo anno di premiazione. Quest'anno poi abbiamo aggiunto anche la consegna del nuovo mezzo di protezione civile alla squadra antincendio e quindi è stata una giornata, un pomeriggio molto importante e molto bello per la comunità. Da una parte il ringraziamento ai ragazzi che si stanno impegnando nella loro vita di studenti, ottenendo dei risultati molto molto importanti. Vorremmo premiare tutti, non riusciamo a premiare tutti, ma ci sono veramente tanti ragazzi nella nostra comunità, nel nostro territorio che meritano di essere riconosciuti per gli sforzi che fanno. E dall'altra parte abbiamo premiato come volontario dell'anno il presidente della squadra antincendio di Rovetta che tutti conoscono per la sua attività pluriannale, con la sua associazione, per la tutela del territorio, per la protezione della collettività, perché la squadra antincendio è un gruppo di protezione civile. E proprio riconoscendo questo loro ruolo abbiamo consegnato loro questo nuovo mezzo che deriva dall'ottenimento di un contributo da parte della regione Lombardia, un bando che è stato pubblicato all'inizio dell'anno. Abbiamo ottenuto un finanziamento importante di quasi 40.000 euro e quindi siamo riusciti a realizzare questa iniziativa, questa opera molto importante per il territorio. Giuseppe Visinoni, presidente della squadra antincendio e protezione civile di Rovetta, volontario dell'anno, che cosa significa per lei questo riconoscimento? Ho un bellissimo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, lo accetto volentieri, però non a nome mio personale, ma a nome di tutta la mia squadra, perché siamo arrivati qua ben dopo 33 anni che io sono il presidente, che mi sopportano ancora, però abbiamo fatto tantissimi lavori in tutti questi anni, siamo nati come antincendio, poi pian pianino siamo passati anche alla protezione civile, poi facciamo i lavori a 360 gradi sulla difesa del territorio, come ad esempio siamo stati i pionieri della giornata ecologica, che abbiamo iniziato noi circa 30 anni fa, l'abbiamo gestita noi come antincendio per 20 anni, poi l'abbiamo passato al comune perché secondo noi era giusto che il comune prendesse in mano la situazione. Lavoriamo anche su territorio come l'otta fitosanitaria, che adesso abbiamo problemi del Bostrico, e già da diversi anni che anche su questo ramo noi ci lavoriamo, e anche facendo ripristinare dei sentieri e tante altre cose. Comunque lavoriamo sempre per la difesa del nostro territorio, che è il nostro obiettivo che ci è sempre posti dall'inizio, da quando è stata fondata la squadra. Ricevendo questo riconoscimento ho voluto fare dei ringraziamenti. Sì, ho ringraziato tutti i miei volontari, che come dicevo prima mi hanno sopportato, almeno quelli vecchi, che mi stanno sopportando da 33 anni, però soprattutto ringrazio mia moglie che è per 33 anni, che ci sta seguendo lei per la burocrazia e tutta. Comunque grazie ai miei volontari, ma soprattutto anche mia moglie, la Silvia.